Macro categoria studi e boutique legali e professionali, categoria diritto societario. Il premio, team legale dell'anno, boutique di eccellenza dell'anno, diritto societario, operazioni straordinarie. Leggiamo la motivazione. Per essere una realtà dinamica e affermata, con oltre 40 anni di esperienza, per la grande attenzione al cliente e l'offerta di un servizio completo, solido ed efficace. Il premio va a Studio Bia del Latti, legali e associati. E invitiamo naturalmente i protagonisti sul palco. Eccoli, Gabriele del Latti, Maria Teresa Bia, Michele Bia. Ben trovati e complimenti giustamente tutti e tre qui, soci dello studio. E allora un commento, parlo con lei, un commento a caldo per questo riconoscimento. Poi entriamo un po' più nel dettaglio rispetto anche alla motivazione che abbiamo ascoltato. Innanzitutto vi ringraziamo per questo importante riconoscimento che premia il nostro lavoro durante un anno decisamente difficile e complesso. Siamo riusciti anche durante quest'anno a mantenere un ottimo rapporto con i nostri clienti, il che ci ha permesso di essere sul mercato. Innanzitutto ringraziamo l'avvocato Raffaele Bia che non è qui con noi ed è il nostro mentore, oltre che colui che ha costituito lo studio. E poi noi lo stiamo sviluppando ancora grazie anche alla sua linea direttrice. Quello che ha dato il via, insomma questi anni di esperienza che abbiamo letto sono 40 e in 40 anni ovviamente chissà quante cose sono cambiate, però lei ha detto soprattutto in questo ultimo anno di evoluzioni, insomma ne abbiamo avute. Come guardate adesso il futuro, proprio alla luce di quello che avete evidentemente messo in atto quest'anno, negli ultimi mesi? Noi abbiamo certamente molto entusiasmo, molta voglia di crescere e guardiamo in maniera certamente positiva al futuro perché siamo sicuri che mantenendo con i nostri clienti un rapporto che è vicino alle loro esigenze e sempre riteniamo completo potremo superare anche i momenti di difficoltà del mercato. Assolutamente sì, la grande attenzione al cliente insomma si è evoluta, non è evaporata in questo ultimo anno nonostante le restrizioni, giusto? Sì, anche quest'anno siamo riusciti a mantenere un ottimo trend determinato da questo rapporto particolare con ciascun nostro cliente. Benissimo, allora naturalmente complimenti per questi 40 anni di esperienza, complimenti per quello che avete fatto e quello che farete. Mi auguro che ci ritroveremo su questo palco anche l'anno prossimo per andare verso 41, 42, 43 anni. Ci sarete? Speriamo. Per parlare, è chiaro, è un po' retorica come domanda però soprattutto in questo momento è bene essere lungimiranti, è il momento giusto per ripartire. Quindi complimenti, prego avvicinatevi pure al premio così facciamo la ripresa finale. Complimenti allo studio BIA dell'Atti Legale Associati per questo premio Team Legale dell'Anno, boutique di eccellenza dell'Anno, diritto societario, operazioni straordinarie. Complimenti. Grazie.